E' tutto pronto, partiti. Futur Eppi assume l'iniziativa nei confronti di Zanipolo e Mister Ghiaccio, poi Mingarlina per linee esterne Sego Tremagy, ancora Pleasant Tiger, poi a solo di breme, cavalli che vanno ad affrontare la piegata di sinistra con Futur Eppi che guadagna una decina di lunghezze a Mister Ghiaccio che figura in seconda posizione in terza Zanipolo, quarto Erconnen, quinta Mingarlina, sesto Pleasant Tiger con in fianchio Tremagy chiude il gruppo a contatto a solo di breme. Si va ad affrontare l'addirittura opposta dove non cambia assolutamente lo schema di corsa con Futur Eppi sempre proiettato in avanti, in seconda posizione si mantiene Mister Ghiaccio a circa otto lunghezze, poi Zanipolo, Mingarlina, in corda Arconnen con i fianchi Pleasant Tiger che guadagna posizioni, quindi a seguire o tre magie a solo di breme. Diminuisce il vantaggio del leader Futur Eppi che ora viene attaccato all'interno da Zanipolo, poi Mister Ghiaccio che prende contatto anche con Zanipolo e Futur Eppi, quindi per linee esterne Mingarlina tra i due Pleasant Tiger, ancora Arconnen, cavalli che fanno ingresso in addirittura d'arrivo con all'esterno Futur Eppi con Iscia Mingarlina, in mezzo alla pista Pleasant Tiger, quindi Zanipolo, per linee interne Arconnen, siamo ai 250 metri conclusivi con Pleasant Tiger che attacca Futur Eppi, quindi Mingarlina, Mingarlina, siamo nel tratto finale con Pleasant Tiger che passa, Pleasant Tiger su Mingarlina e Futur Eppi. Pleasant Tiger, Daniele Scalora in chiusura di convegno, 9,50 alla quota per i colori del signor Di Pietro, il training del signor Campisi, Pleasant Tiger colpisce all'ultima del convegno.